Gianfranco Camilleri, sindaco di Campomarino per due mandati consecutivi, un bilancio di questi dieci anni di amministrazione. Dunque, sono stati degli anni bellissimi. Sicuramente per me è stato un onore rappresentare la comunità di Campomarino. Ho cercato di farlo sempre al meglio, con grande onestà, con grande rispetto per il ruolo che ho svolto. Soprattutto sapendo che questo era il mio solo obiettivo, cercare di dedicare parte del mio tempo alla comunità di Campomarino per migliorare, per cercare di far crescere una comunità. Umanamente che esperienza è stata quella di fare il sindaco? Umanamente, devo dire la verità, è un'esperienza molto difficile, perché capisci veramente come sono le persone e qual è il rapporto che puoi instaurare con loro. Ti rendi conto, soprattutto a volte, e questa è la cosa che forse più voglio sottolineare, quanto sia fondamentale cercare di superare le difficoltà, a volte ignorando anche le varie critiche che ricevi, perché le critiche non sempre sono costruttive. Molto spesso, purtroppo, sono critiche distruttive di chi non si informa su qual è la reale portata di un problema e non pensa a risolverlo, ma soprattutto ad evidenziare delle lacune. Però, al di là di questo, devo dire con grande onestà che sono stati dieci anni anche difficili. Se tornassi indietro, probabilmente rifarei tutto quello che ho fatto, ma oggi, dopo dieci anni, dico che è giusto terminare qua, ritornare a tempo pieno alla mia professione, ma soprattutto alla mia famiglia. È un addio alla politica o in futuro possiamo rivedere Gianfranco Camilla è rimpegnato nuovamente, magari anche in altri tipi di istituzioni? Guardi, ad oggi io direi, senza ombra di dubbio, che è un addio alla politica. Non ho titubanza in questo senso. È anche vero che la vita non sai mai quello che ti pone davanti. E certo è che occasioni per andare avanti politicamente ne ho avute. Spesso tutti mi chiedono come mai non mi sono candidato alle regionali perché ho avuto l'opportunità di farlo. La risposta è molto semplice, perché io ho voluto fare il sindaco di Campomarino cercando di mettermi a servizio della mia comunità e non ho mai inteso questo ruolo come un trampolino di lancio per fare qualcos'altro. Questo era il mio impegno e l'ho voluto portare avanti fino alla fine.